E allora siamo pronti per partire domani, venerdì 4 agosto, con la Festa del Mare. Quindi tre date, 4, 5 e 6, presso la Darsena-Giulgine, quindi finale di Viera Adriatico, zona Faro, tanto per capirci, con tanti eventi e tanta tanta gastronomia. La gastronomia è soprattutto quella più tipica nostra, marinara fanese, nelle ricette più, quelle più tradizionali nostre del porto e della città di Faro. Ma oltretutto anche con tanti eventi collaterali. Quindi a partire da venerdì, presso la zona del porto, ci saranno i Rewind ad aliettare la serata. Questo durante la cena. Mentre a Lido, poi, seconda battuta, il DJ 7, Matteo Pietrelli, con il suo voice, diciamo così, Antonio Di Biase, di Radio Studio+. Poi passiamo al sabato, quindi al sabato, sempre durante la cena al porto, i Vitamina C. Mentre a Lido, in seconda battuta, un evento un po' particolare, un evento, diciamo così, speciale. Gli Zebra 3, i nostri amici, gruppo storico, fanese, musicale, confieranno i loro 20 anni. Poi passare la domenica, che è un po' la serata clou dell'evento della festa del mare, anche perché attendiamo con ansia i fuochi che saranno appunto dal molo dell'Isippo. Domenica sera, presso il porto, Luca Vagnini e il suo gruppo, i Target. Mentre a Lido, tanta animazione anche per i bambini, con Mattia Diamantini e la New Latin Academy. Ecco, quindi vi aspettiamo 4, 5 e 6 agosto. Festa del mare, tanto divertimento e tanto buon cibo nostro della tradizione fanese. Vi aspettiamo domani, venerdì 4 agosto, fino al domenica 6 agosto, alle 18.30, presso lo stand gastronomico, in occasione della festa del mare, che si terrà lungo il viale di Riatico, vicino al Faro. Verranno proposte numerose ricette legate alla tradizione, tra cui le purassa alla poretta, i tagliolini allo scoglio rosso e la rostita, con il pescato dell'Adriatico. La rostita verrà preparata proprio dai marinai, dai pescatori fanesi, per dare proprio un tocco alla tradizione del nostro pesce dell'Adriatico. Sabato 5 agosto, in occasione della festa del mare, ci sarà il nostro concerto e noi siamo gli Zebra 3, e in occasione di questa bellissima festa che si tiene ogni anno a Fano, festeggeremo il nostro ventesimo anno di attività, quindi il nostro compleanno sarà. Quindi vi aspettiamo sabato 5 alle 21.30 per il nostro concerto Piazzale Seneca Lido di Fano, ore 21.30-22. Vi aspettiamo numerosissimi, non mancate.